Segue la luce, io lo metto intanto adesso su questo software, vediamo cosa succede, ecco l'ha trovato, segue, segue, si vede, si, e se io gli metto tipo la cartellina davanti? E se gli metti la cartellina davanti probabilmente la blocca perché è troppo grossa, se metti un tipo, se io, che senso la cartellina? Li metto io! Non si ferma perché nel programma che gli abbiamo buttato dentro, lo vedete qua, non trova, non trova una confusione bianco, eccola, adesso ho trovato di nuovo. Però in questo momento nel programma non c'è nessuno, niente che gli dica di usare il sensore a ultrasuoni davanti, per cui non sente. Ma se tu dovevo mettere il colore, se io lo collego, vediamo cosa succede, c'era poco spazio e quindi adesso è bianco ed è lì, cosa fa? Gira e adesso ha riconosciuto l'altro, perché è quello che ha incontrato per primo. Se sta in piedi dove è meglio stai sinistro? Come? Se sta in piedi. A qual è tovo? Beh, se sta in piedi, come di l'altro che avete visto, dici, devi metterglielo basso vicino a... Come? Cosa succede se io metto il fazzoletto dove voglio? Io lo posso mettere dove voglio, io è leggo, quindi... Davanti al cino, con le... sono dei sensori per non andare a sbacchere? Si può usare per quello, al momento io non gli ho detto, però lo posso fare. Vedi sì, Anderle, lo facciamo, perché abbiamo tempo. Esatto, così. Vedete, allora, io lo prendo, lo fermo, premendo quello e lo ricollego. Grazie.